Quando la solidarietà chiama, i giovani rispondono. E' questo lo slogan utilizzato dal gruppo di giovani organizzatori di Cherie per promuovere un evento in cui al divertimento e alla musica vengono abbinati sostegno e umanità. Un vero e proprio street party pubblico in Piazzale della Libertà, domenica 21 agosto dalle 19 fino a mezzanotte, aperto per tutti i giovani e finalizzato alla raccolta fondi per lo Iopra, la onlus pesarese che si occupa di assistenza ai malati terminali. Ho deciso di unire, fare da trade union a questa voglia di fare festa che hanno i ragazzi, però anche sensibilizzandoli a quella che è la solidarietà, in questo caso per lo Iopra, che è un'organizzazione no profit che si occupa di assistenza ai malati terminali. Vista anche l'esperienza personale che ho vissuto poco meno di un anno fa con la peri di mia moglie, lo Iopra si è veramente adoperato tantissimo per alleviarci da quelle che sono il carico, il calvario che abbiamo vissuto e loro hanno fatto veramente tanto. Io ho votato la mia vita all'aiuto, non abbattendomi mai, ma invece trasformando questa esperienza dolorosa in un momento di gioia e di felicità e quindi quale occasione migliore che non quella di fare una bella festa per i giovani in una piazza così bella come quella della Palla di Pomodoro e ringrazio il Comune perché si è adoperato veramente tanto. Sono sicuro che i giovani saranno veramente tanti e numerosi con una gran voglia di fare festa e anche di donare, dare un aiuto, un contributo concreto da parte loro. Spesso magari i giovani vengono considerati come non sensibili a tematiche del genere, invece voi siete un gruppo di giovani che avete organizzato questo evento. In che modo? Assolutamente sì. Allora non sono d'accordo che i giovani sono insensibili a queste tematiche, i giovani sono sensibili e che spesso non sono stimolati e non sono coinvolti all'interno di queste tematiche. Noi non abbiamo avuto nessun tipo di resistenza nell'organizzare questo evento. Si tratta semplicemente di informarli, coinvolgerli e dare loro la possibilità di esprimere la loro vicinanza a questi temi, chiaramente organizzando un evento che possa coinvolgerli e divertirli allo stesso tempo. Abbiamo lanciato una campagna di pubblicità, chiaramente in questo caso rimodellata in base alla tematica dell'evento, dunque abbiamo spinto sul discorso della vicinanza ai malati terminali e quindi sul fare del bene. Ci saranno quindi persone che si esibiranno dal vivo, DJ set, DJ giovani emergenti, ci saranno degli spettacoli digitali tramite l'utilizzo dell'headwall, ci saranno delle ballerine che si esibiranno, coordinati con tutti i momenti artistici dettati dal DJ. Saranno presenti anche tanti effetti artistici dal punto di vista fisico, quindi il CO2, cose che possano coinvolgere il pubblico e garantire uno spettacolo all'altezza dell'occasione. Attorno al palco verranno posizionati dei banchetti ben identificabili dello Iopra dove chiunque potrà donare, verrà fatta un'attività di crowdfunding, quindi di raccolta fondi anche via internet, ci sarà lo schermo LED che riporterà anche il codice IBAN dove ognuno potrà fare i versamenti. È offerta libera, sì sì, ognuno liberamente può donare quello che vuole.